buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questa lettura per il segno dell'acquario io già mentre mescolo le carte sto guardando la carta centrale mi viene da ridere perché è una stesa interessante intanto prendiamo la carta angelica e vi ricordo che per avere una sessione privata con me potete andare sul sito internet e prenotare direttamente da lì oppure inviare un'email per diventare miei studenti stessa cosa o andate sul sito internet e vi scrivete da soli oppure se avete soprattutto bisogno di rateizzare o volete conoscere possibilità di sconto se prendete più di un corso inviate un'email alla mia assistente se siete già miei clienti inviate a me un messaggio su whatsapp come sempre ma iniziamo prendiamo una carta angelica andiamo a vedere che cosa sta accadendo con questa persona tanto importante tanto importante qua c'è qualcuno tanto importante ragazzi veramente tanto e già allora ovviamente adesso parliamo un po in generale poi andiamo a vedere per le coppie per i single che cosa succede in generale abbiamo un sei di coppe che già parte alla grande quindi come energia perché abbiamo un un'anima gemella o una delle nostre anime gemelle per dirla in modo più chiaro cosa intendo visto che ecco nel web ci sono varie definizioni e ogni youtuber dalla sua vi spiego cosa intendo per anima gemelle io intendo qualunque anima con cui abbiamo un legame particolarmente forte ed intenso con cui abbiamo condiviso già esperienze nelle nostre vite precedenti con cui abbiamo un contratto carmico e quindi insieme abbiamo stabilito prima di nascere di incontrarci conoscerci condividere un'esperienza e poi scegliere se stare insieme tutta la vita oppure no in base ovviamente al nostro libero arbitrio perché quando si incontrano delle anime che già conosciamo delle anime con cui abbiamo un legame carmico non importa che siano anime gemelle anime compagne o fiamme gemelle noi possiamo scegliere se stare con quella persona oppure no quello che non possiamo scegliere è di incontrarla se incontrarlo o meno quindi noi prima di nascere firmiamo un contratto con scritto io decido di incontrare tizio e dico di vivere con lui questa esperienza ma non diciamo anche che vivremo insieme tutta la vita quella è una scelta ovviamente questi sono dei meccanismi ragazzi di cui parlo meglio nel videocorso di psicologia carmica ed energetica dove questo tema anime gemelle fiamme gemelle eccetera eccetera viene approfondito abbondantemente ma adesso vediamo un po che cosa sta accadendo perché significa che noi abbiamo a che fare con una delle nostre anime gemelle quindi con una delle persone più importanti della nostra vita per qualcuno di noi potrebbe significare questa carta che abbiamo a che fare con il passato e quindi ecco che questo 6 di coppe rappresenta il passato o il passato che ritorna nel presente oppure il passato che ritorna nella nostra mente quindi la nostalgia di un passato magari mi commenterete voi e mi direte voi di cosa si tratta ma io credo che si tratti proprio di un passato presente che c'è che esiste e che magari per qualcuno di noi esiste solo nella nostra mente ma in modo talmente forte da essere quasi presente per altri invece è veramente presente in carne ed ossa ora andiamo a vedere nelle due singole colonne che cosa sta accadendo in una colonna ritroverete voi stessi nell'altra colonna troverete scusate la persona con la quale stiamo interagendo che può essere il nostro partner o qualcun altro e vediamo un po cosa succede da questo lato abbiamo qualcuno che si sente come un asso di coppe rovesciato e prova il sole rovesciato desidera l'otto di coppe rovesciato si comporta come il giudizio rovesciato e ciò che non dice è il quattro di spade rovesciato dall'altra parte abbiamo un dieci di bastoni rovesciato un tre di bastoni il papa rovesciato il nove di bastoni e due di coppe a me queste sembrano le carte di due persone che hanno subito proprio una battuta dal resto la relazione di qualunque tipo ha subito una battuta dal resto ma nessuno dei due vuole lasciare andare l'altro ma nessuno dei due vuole lasciare andare all'altro anzi sono due persone che stanno aspettando si stanno aspettando l'un l'altro stanno aspettando una riappacificazione un riavvicinamento un qualcosa che possa portare a una unione in particolare ma poi vedo l'amore da parte di tutti e due vedo un profondo amore da un lato abbiamo l'asso di coppe che è rovesciato e dall'altro lato abbiamo il due di coppe nella posizione dei segreti quindi qui stiamo parlando di un asso di coppe che esprime l'amore più puro ma che per qualche motivo non viene espresso al cento per cento e due di coppe nella posizione dei segreti che rappresenta l'amore più puro ma non viene espresso apertamente perché è nella posizione delle cose non dette quindi sono carte che stanno veramente definendo delle energie fortissime dei sentimenti importanti che però per qualche motivo non vengono espressi al cento per cento o in qualche in qualche caso non vengono espressi tra l'altro ecco tra l'altro per qualcuno di voi vedo proprio una situazione di blocco pesante di stallo pesante mentre invece per qualcun altro vedo dei blocchi molto leggeri ma andiamo più nello specifico a vedere cosa accade per coppie single perché così potrò essere più chiara per chi è in coppia questa è una coppia che si conosce da tanto tempo sono due persone che stanno insieme da tanto tempo che hanno condiviso tante esperienze insieme o in questa vita o appunto come dicevo in vite precedenti ma è comunque un legame molto ma molto forte molto intenso è un legame che va davvero oltre il tempo oltre lo spazio che non conosce questi limiti fisici e che potete appunto sentire con un'intensità decisamente decisamente forte questa è una coppia che sopravvive o è sopravvissuta a tante cose in questa vita ripeto o in vite precedenti è solo che adesso sta attraversando un momento un momento una battuta di arresto appunto una battuta di arresto che ha messo magari in discussione la relazione alcuni parametri alcune alcuni dettagli della relazione ma non ha mai messo in discussione i sentimenti non ha mai messo in discussione il l'amore reciproco che queste due persone provano l'una per l'altra e se qualcosa ha messo in dubbio la relazione vi posso garantire che questo qualcosa non ha minimamente scalfito il cuore di queste due persone anche se ha messo magari in dubbio il lo stare insieme allora in particolare io vedo uno dei due che uno dei due che ha un po paura ha un po paura a rimettere in gioco dei lati di sé ha un po paura a riaprirsi ma allo stesso tempo non rinuncerebbe mai all'altro e ha anche difficoltà in questo momento ad accontentarsi di alcune di alcune cose è un po pignolo è un po sta a guardare molto i dettagli come se a questo punto per qualche motivo i dettagli fossero importanti cioè si sente un po l'esigenza di qualcos'altro di fare con la di fare qualcos'altro c'è un po di insoddisfazione che impedisce a questa persona di godersi la vita e che non è felice al cento per cento nonostante appunto i sentimenti ci siano perché i sentimenti ci sono quello che manca è la felicità la capacità di gioire la capacità di godere questi sentimenti dall'altra parte abbiamo qualcuno che sta aspettando qualcosa qualcuno che è in attesa di che è in attesa di vedere un cambiamento e che è che nel frattempo tiene duro non fa altro che tenere duro però c'è un dettaglio ragazzi che vale per qualcuno di voi solo per qualcuno di voi alcune coppie stanno vivendo un momento nel quale uno dei due vuole mollare la presa e l'altro no quindi perché uno dei due si è innamorato di un'altra persona l'altro non vuole mollare la presa quindi potrebbe anche esserci questa questa interpretazione per queste lame potrebbe trattarsi di uno dei due che si è preso una bella cotta una bella sbandata e tutto ciò che vuole è distruggere il matrimonio distruggere la relazione semplicemente per poter vivere per poter vivere liberamente qualcos'altro ma per il momento non essendo ancora pronto o pronta resiste però ripeto questo è per una parte di voi per un'altra parte di voi si tratta semplicemente di aspettare che alcuni dettagli della relazione vengano risolti e che magari uno dei due possa cominciare anche a fare le cose di testa sua perché c'è un grande desiderio da parte di uno dei due di fare le cose di testa sua e di non dovere necessariamente seguire le regole ascoltare gli altri fare le cose come bisogna farle c'è proprio voglia di fare le cose di testa propria e per quanto riguarda i single questa potrebbe essere una situazione nella quale c'è già stato un passato fra queste due persone ora anche in questo caso devo sottolineare che potrebbe trattarsi di un passato in questa vita o di un passato in un'altra vita fatto sta che c'è stato un passato fra queste due persone una delle due una delle due ha conservato tutto l'amore ma ha conservato anche dei sentimenti di rancore ha conservato una sorta di insoddisfazione nei confronti dell'altro ed è per questo che da un lato ha difficoltà a rifarsi una vita al cento per cento una vita felice da un'altra parte o con qualcun altro dall'altro lato ha difficoltà a lasciare andare completamente il passato anche se sta cercando di rifarsi una vita sta cercando di ritrovare degli stimoli se si tratta di qualcosa finita da poco per esempio uno dei due sta proprio cercando di ritrovare gli stimoli e di guardarsi intorno di vedere quali sono le sue alternative però questo non lo sta rendendo felice non sta trovando la piena soddisfazione piuttosto ancora ci sono dei sentimenti forti in gioco che impediscono di sentirsi meglio l'altra persona ha lasciato andare ha decisamente lasciato andare perché questo è il suo desiderio perché questa è la cosa che ritiene e reputa migliore ma la verità è che anche quest'altra persona prova ancora un amore prova ancora un sentimento e sta lì ad aspettare l'altro sta lì ad aspettare che l'altro faccia una mossa sta lì ad aspettare che l'altro cambi che cambi che possa tornare che possa fare qualcosa di diverso che possa recuperare il rapporto che possa chiedere scusa per gli errori o comunque rimediare gli errori e anche questa persona ancora innamorata sta lì ad aspettare sta lì e tiene duro tiene duro nella separazione ma i sentimenti e il cuore in realtà sono rivolti verso l'altro sono proiettati verso l'altro quindi per chi è singole sta vivendo una situazione che si riflette in questa descrizione sappiate che siete entrambi innamorati sappiate che tutti e due provate dei sentimenti semplicemente siete scoraggiati non credete che questa cosa possa funzionare per vari motivi caratteriali o per vari motivi esteriori magari a voi però c'è una sorta di scoraggiamento adesso adesso vediamo un attimino qual è l'energia che si manifesta con tutti e dodici i segni zodiacali quindi vedremo come il segno dell'acquario sta interagendo con i dodici segni zodiacali questo mese vediamo un po' dunque prendiamo le nostre cartine che oggi non si mescolano molto bene intanto ragazzi io vi ricordo che se volete diventare miei studenti di qualsiasi cosa potete inviare una email e chiedere informazioni sui corsi che vi interessano di più potete scegliere fra tarologia psico evolutiva che è il metodo che ho studiato e che ho creato per per analizzare l'ambito delle relazioni in modo approfondito quindi non si tratta di cartomanzia per carità ma si tratta di tarologia che è un vero e proprio percorso di analisi interiore la cartomanzia è solamente accennata all'interno del corso perché fa parte comunque della nostra tradizione ma a me quello che interessa è rendervi capaci di analizzare perfettamente una relazione di coppia una relazione di amicizia o di qualunque tipo da un punto di vista anche utile a risolvere i problemi potete anche iscrivervi al video corso di magia d'amore e telepsichia se invece siete interessati alla comunicazione energetica e mentale fra persone se siete interessati a una forma di ritualistica positiva quindi non si tratta di magia rossa non si tratta di ritualistica classica con candele incensi si tratta di un utilizzo sano delle proprie emozioni dei propri pensieri per ottenere dagli altri determinati effetti per creare negli altri determinate emozioni determinati desideri oppure potete iscrivervi al video corso di psicologia karmica ed energetica per comprendere meglio le dinamiche fra anime gemelle il karma le fiamme gemelle che cosa ci tiene lontani e che cosa ci impedisce di essere felici o che cosa ci impedisce di trovarla a volte la nostra fiamma ma eccoci qui iniziamo subito a vedere che cosa accade con la riete sappiate che la riete non riesce proprio a lasciarvi andare il toro vuole attenzioni a un atteggiamento in questo momento molto centrato su se stesso il gemelli sta male per ciò che è accaduto e prova ancora qualcosa il cancro con il cancro non perdete tempo perché vi aspetta qualcosa di meglio il leone ha rinunciato ma la sensazione che ancora la situazione non sia del tutto finita fra voi la vergine sente la vostra mancanza la bilancia un'amicizia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più potrebbe trasformarsi in una relazione o in una via di mezzo lo scorpione vorrebbe farsi avanti ma non agisce e rimane lì a pensare il sagittario beh con il sagittario siete voi che dovete prendere una decisione il capricorno il suo desiderio è che tra voi funzioni l'acquario c'è reciprocità e con il pesci aspetta che sia di voi a fare la prima mossa o a comunicare e adesso andiamo infine a vedere la carta angelica quindi qual è il consiglio degli angeli per questo mese e abbiamo un set di acqua che mette proprio in luce la difficoltà che abbiamo nel nel fare una mossa o nel prendere una decisione che in effetti sembra particolarmente difficile il consiglio infatti è quello di pensarci bene o magari addirittura di fare delle ricerche di chiarirvi le idee e comunque ecco fatelo perché è arrivato il momento di smetterla di procrastinare prendere ancora tempo se una decisione va presa va presa potete magari appunto fare qualche ricerca approfondire di più per essere sicuri ma la decisione va presa per il resto ragazzi vi invito ad andare sul sito internet a inviare una email e ci vediamo alla prossima